Le vittorie degli azzurri in quegli anni sono legate alla volontà, all'intelligenza e ai metodi del suo allenatore, l'ex alpino Vittorio Pozzo. Fin dal momento in cui assunse la carica, io mi dedicai completamente alla bisogna e non mi limitai a fare quello che facevano i miei predisessori, perché sceglievano la squadra e poi se ne andavano in tribuna a vedere come quella giocava, io volevo fare fresco del lungo servizio militare, sette anni di naia al terzo reggimento alpini, volevo fare quello che facevo da soldato, ero l'ufficiale, sceglievo gli uomini per mandare in combattimento e poi andavo in combattimento con essi.